Dottor Miccio, questa mattina un'altra bellissima notizia, Ischia isola felice per la nascita delle tartarughine. Sì, ormai è evidente che le tartarughe scelgono quest'area e non solo Ischia, anche l'area a nord di Napoli, sulla riviera Casertana, ci sono molti nidi. Quindi questo è dovuto al fatto che con il cambiamento della temperatura del mare, le tartarughe che solitamente si fermavano a depurre le uova al sud della Sicilia o in Sicilia, man mano col passare del tempo tendono a depurre più verso nord e quindi noi ci siamo in parte attrezzati con la stazione zoologica, ormai sono tre anni che facciamo un'attività di formazione per i nostri volontari, facciamo i controlli la mattina molto presto, i controlli sulle spiagge per vedere se c'è qualche nido e insieme con loro cerchiamo di garantire dove possibile a queste tartarughe di poter ritornare al mare quando sono rinate. Ecco, questa mattina è arrivata la segnalazione di alcuni bagnanti che hanno visto queste piccine andare a mare. Sì, anche questo, il caso per esempio di Furio ma anche tempo fa di un altro tentativo qui a Dischia, è bellissimo che la popolazione sia così attenta a queste cose, sono attenti, chiamano immediatamente o scrivono sui social o la capitaneria o ai nostri volontari, quindi è un bel segnale, è vero che è tutto ancora, non è tutto molto semplice in questa area marina, ma il fatto che le persone dell'isola e delle isole siano così sensibili a questi fenomeni è importante. Bene, abbiamo visto che ce ne sono ancora di uova che devono schiudere, quindi attendiamo, le stiamo sorvegliando? Sì, spesso il nido contiene qualche centinaia di uova, quindi può darsi che quelle che siano uscite sono le uniche che erano state fecondate, così poi può darsi che ci siano delle ulteriori fuoriuscite, però in questo caso noi come sempre avvertiamo, oltre ad avvertire la capitaneria di Porto, avvertiamo la stazione zoologica, perché al sud c'è un'importante struttura per la salvaguardia delle tartarughe della stazione zoologica Anton Dorn, che è il Tartar Point, quindi noi avvertiamo loro e poi saranno loro come esperti con i veterinari e gli studiosi a seguire, a fare eventuali ulteriori approfondimenti.